oggi qualche vendita sugli indici europei c'è da preoccuparsi vediamo vediamo andiamo andiamo subito con la sigla buongiorno 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 benvenute e benvenute a questa videoanalisi dedicata ai principali indici azionari qualche vendita qualche vendita prima di vedere però i grafici voglio invitarti a un grande evento che si farà questo pomeriggio sarò relatore ad un webinar organizzato da unicredit ti metto anche il link sotto nella descrizione di questo video lo trovi anche tra gli eventi nel mio sito internet renato de carolis in cui farò vedere come investire sui mercati più importanti indici titoli azionari valute materie prime anche con piccole cifre con un effetto leva molto interessante il tutto sul mercato regolamentato quotato a piazza affari borsa italiana vieni prenota il tuo posto gratuito e gratis farò vedere ovviamente anche come io vado ad adattare le mie strategie ai chi nasci su questo tipo di mercati che sono praticamente i turbo open end che non hanno scadenza insomma tanti 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 vantaggi te ne parlerò oggi in maniera approfondita in questo webinar gratuito ore 17 mi raccomando ti aspetto sopra di me intanto vedi anche lo ticker in cui è spiegata una sintesi di quella che è la trading zone con il riferimento del mio sito eccolo là renato de carolis.it e i social network dove sono presente e allora qualche vendita qualche vendita andiamo a vedere andiamo a vedere il grafico giornaliero ai chi nasci di piazza affari e queste sono interessanti cioè guarda cavo ovviamente il primo febbraio la candela verde ai chi nasci è apparsa il primo febbraio lo potete vedere e constatare anche voi questa candela verde non l'ho disegnata io ed è stato il due sera è arrivata la notizia della convocazione di draghi al quirinale e da lì il rally che ha visto l'indice insomma toccare un massimo ieri a 23.513 oggi si è fermato a 23.482 siamo sopra abbondantemente sopra i 23.000 punti e se torniamo se torniamo a vedere il grafico siamo arrivati in una zona dove area 23.360 se proiettata indietro nel tempo vediamo che è stata la zona di supporto da dove praticamente un anno fa circa con la candela verde del 4 febbraio si 4 febbraio era partito al rialzo fino a questa resistenza dei 25.400 per poi notizia codogno 20 febbraio boom il crollo verticale come mai si era visto sui mercati ma non solo piazza fari su tutti i mercati fin giù fino addirittura ai 15.000 oltre sotto anche i 15.000 punti adesso c'è stato questo rally per tutta quella che l'euforia per la possibile nomina di draghi e guarda caso che coincidenza proprio lì proprio lì stanno monetizzando stanno chiudendo ora se sono prese di profitto ovvero come che significa prese di profitto prese di beneficio tu prima compri e poi vendi per chiudere un'operazione al rialzo e quindi stai vendendo non perché magari pensi che il mercato possa invertire il trend ma stai chiudendo solo una posizione parte o tutta la posizione al rialzo anche perché qua non sappiamo se potrebbe esserci un sell o news una volta che parte ufficialmente il governo draghi poi bisognerà vedere il governo soprattutto la squadra di ministri se è politico tecnico un misto dei due insomma però guarda caso che coincidenza proprio da quelle parti grafiche stanno avvenendo prese di profitto staranno chiudendo delle posizioni comunque nulla di clamoroso meno 0 50 rispetto a quello che è stato il rally partito da febbraio da supporto 21004 quindi assolutamente tutto sotto controllo però guardate anche il dax che ieri ha aggiornato il massimo storico candela rossa candela rossa qui addirittura già si vede del rosso occhio occhio a come chiude se chiude così potrebbe esserci quindi secondo questa candela ai chi nasce una possibile inversione del trend l'euro stocks invece sta a meno 0 31 ancora rialzo la francia le prese con questo livello interessante la spagna meno uno che va a riprendere anche questa zona grafica più sotto rispetto alle 8.400 mentre l'indice inglese continua a non decollare dal supporto dei 6.427 l'america invece un discorso a parte fanno i massimi quelli giornali massimi storici dow jones standard and poor nasdaq 100 lì proprio è tutto un altro mondo e si chiude qui allora dai ti aspetto ti aspetto questo pomeriggio ore 17 al webinar con unicredit oppure ci vediamo come sempre nella trading zone che è sempre aperta 24 ore su 24 7 giorni su 7 buona giornata grazie grazie